L'Arcidiocesi di Trani ha celebrato il Giubileo Diocesano delle Confraternite nell'anno giubilare della Misericordia e nella solennità del Beato Pier Giorgio Frastati, patrono delle Confraternite. Ecco il messaggio di Sua Eccellenza Monsignor Giovambattista Picchieri, Arcivescovo della Diocesi di Trani Barletta Biceglie, prima della solenne celebrazione eucaristica. Sua Eccellenza, qual è l'importanza di un Giubileo Diocesano per le Confraternite? Oggi ricorre la festa del Beato Pier Giorgio Frastati, questo santo giovane che è vissuto tra il 1901-1925 a Torino. San Giovanni Paolo II lo ha proclamato patrono delle Confraternite, quando lo beatificò il 20 maggio del 1990. Nell'anno straordinario della Misericordia ho ritenuto opportuno solennizzare questa festa del Beato Pier Giorgio Frastati convocando tutte le Confraternite dell'Arcidiocesi che vivranno questo Giubileo straordinario facendo memoria della fede e delle virtù del Beato Pier Giorgio Frastati. Un santo giovane, come dicevo, che ha reso la fede ricca di opere, opere di misericordia spirituale e corporale. Ebbe a definirlo, San Giovanni Paolo II, quando lo beatificò, è l'uomo delle otto beatitudini. È l'uomo veramente che si è realizzato nella gioia, nella felicità che soltanto Gesù è venuto a portare nel cuore, nella mente, nella carne nostra. E quindi oggi tutte le Confraternite vivranno questo pellegrinaggio penitenziale e poi giunti nella Basilica Cattedrale celebreremo la Divina Liturgia, la Liturgia della Parola e la Liturgia Eucaristica, cioè la Messa. E infonderò nell'animo di questi confratelli e di queste consorelle quella gioia che la vita cristiana porta in sé e soprattutto il rinnovato impegno per una testimonianza autentica e credibile del Vangelo della gioia che è Gesù. Diceva il Beato Pier Giorgio Frassati la fede è la vita nuova che abbiamo ricevuta e dobbiamo viverla e non vivacchiarla, non sciupare questa vita. Ecco il messaggio che risulta attuale nel nostro tempo del Beato Pier Giorgio Frassati.